Io oggi sono particolarmente contento di questa iniziativa che ci ha aiutato tanto il professore Cernigliaro, un cittadino di Barano e di Fiaiano, lo sottolineo, e quindi ci sta aiutando in questa iniziativa che è importante cercare di spronare i giovani a leggere sempre di più, quindi avvicinare i giovani alla lettura, visto che oggi viviamo un mondo molto tecnologico e quindi questa è l'idea della nostra iniziativa che poi è il primo incontro, poi ci saranno altri incontri l'anno prossimo. Questa oggi è solo la prima giornata, è solo l'inizio, quindi oggi l'ospite per noi importante è il professore Cernigliaro. Professore, quindi liberi, però tanta natura, mari e monti, lo diciamo prima di iniziare questa nostra chiacchierata. Barano è un territorio che si presta ad entrambe le visioni, dal mare al monte ci si affaccia e trovi tutto. Certo, il tema del rapporto dell'uomo con l'ambiente è una questione naturalmente, inutile dire, centrale del vivero attuale. Un'amministrazione ha molto, innanzitutto vi è un obbligo costituzionale di attenzione all'ambiente, che è l'ambiente antropico, ma è l'ambiente anche che ci circonda. E' un rapporto che oggi è diventato molte volte chiuso in se stesso per ognuno. E' di scarso rapporto con l'ambiente, con gli altri, con chi ci è vicino. Perfino i giovani sono abituati ormai a vivere nella loro stanzetta, chiusi, su un computer. E' un rapporto che ha bisogno di essere invertito, capovolto. Quindi l'attenzione di questa occasione è un'occasione, a mio avviso, importante, nel significato che viene proprio dal concetto di leggere. Leggere ha come suo etimo legare le persone, non di basare questo modo di vivere attuale sulla solitudine, sulla melancolia. Noi oggi partiamo con il libro del professor Cruze, Introduzione a Siddhartha di Ermanesse, un libro che solitamente si legge nella fase di formazione, quindi periodo delle scuole medie, periodo del liceo. Tanti di noi l'abbiamo letto. E Siddhartha cosa cercava? Cercava l'io, cercava il sublime, cercava l'assoluto, ponendosi di fronte a delle prove di volta in volta. Quindi questo dovremmo imparare un po' tutti, forse, a quello di saccarci un po' dalle cose quotidiane ed elevare un po', ed elevare lo spirito. Proprio questo, come dice il titolo, librarsi tra mare e monte. Quindi un'elevazione. had river e padre. Dovemmo?